Ricorso al TAR da parte del comune di Battipalia nei confronti di Ecoambiente, società provinciale che gestisce l'ex STIR. Alla base del ricorso la decisione di Ecoambiente di aumentare la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati di circa il 30% con effetto retroattivo affardata dall'1 gennaio 2018. Una decisione ritenuta illegittima dal comune, gravato da una spesa extra di 367.000 euro che attraverso il settore avvocatura ha deciso di presentare ricorso al TAR, soprattutto sul fronte dell'effetto retroattivo del provvedimento di Ecoambiente, che come si legge nella delibera rischia di avere gravi ripercussioni sul bilancio.